E benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro video, oggi siamo sempre qui con il nostro fantastico Sante Etienne E che dire ragazzole, sotto anche l'ultimo video ci sono stati un sacco di commenti, veramente vi ringrazio, non so più cosa dire Mi fate veramente strafelice, però proprio per premiare tutta questa partecipazione, come al solito adesso inizio il video direi che possiamo leggerceli tra di noi Così da avere anche una discussione più importante Allora partiamo subito col primissimo commento che è Paolo che ci dice che secondo lui il modulo ci sta al momento, quindi non è convintissimo con quel momento secondo me Poi Walter ci saluta con salve bomber, grandissimo Abbiamo invece il primo consiglio di mercato da Ray1Shorts che ci dice che tra l'altro Pierotti sta a Lecce Tra l'altro Mario gli risponde, anche io non lo sapevo, quindi Ray tanta roba, cioè acquisisce un po' più di punti Pierotti Anche se nello scorso episodio mi ha fatto un po' di cazzare, mentre d'Orgu diciamo che spoiler lo andremo a prendere Anche Antonio ci fa sapere che l'attaccante è quello dell'Auxier, cresce di più 4 e altro spoiler andremo a prendere pure lui Giusto per premare Antonio e per fargli vedere se in game rende come l'ha visto lui oggettivamente Quindi per confermare o smentire quelli che sono i suoi presupposti sul giocatore Poi abbiamo Mario che ci consiglia, Niang che è tanta roba anche perché ho visto che mi sembra che è tornato all'Empoli Non vorrei dirvi una cavolata, quindi Niang al posto di Pierotti, molto esotico, lo cominciate a seguire Gioca in Turchia lì, sembra fattibile come trattativa, staremo a vedere se riusciremo a portarla a termine Poi abbiamo Fifa Return, un video bellissimo, Fifa Return ti voglio un mondo di bene E poi abbiamo De Robby, De Robby che ci delizia sempre con i suoi mega commenti Che vi invito ragazzi se volete di andare a rispondere, di creare anche magari un dibattito Così da parlare tutti insieme sotto il commento di De Robby che è sempre molto esaustivo E' incredibile, dove ci dice che gran bella parte di mercato, perfetto, scontenti dalle trattative Perché secondo economico, eh beh quello è vero che sarebbe giusto riaspettare un po' di ritorni, di osservatori Hai perfettamente ragione, però sappiamo che quest'anno purtroppo FC non regala tante gioie a livello di talent scout Quindi per quello mi sto muovendo un po' alla veloce diciamo Poi in ogni modulo è possibile cambiare il modulo Ti ho seguito, mi è piaciuto un botto il tuo ragionamento che hai fatto lì sui moduli, sulle occasioni e tutto Infatti ho deciso di adottare per ora questo Ci adottiamo così anche perché Fazzini fa un bel più tre Possiamo sfruttare meglio Maino sulla destra sua velocità Con anche Bochowari che è perfetto con due piccolini che corrono Hassan bello corazzato là in mezzo Fazzini e Fomba che alla fine decido di tenere per l'esperienza Che mi gestiscono un po' il gioco Secondo me De Robby questo potrebbe essere il modulo perfetto Commentatelo anche voi sotto nei commenti Per dirmi se alla fine vogliamo optare con questo 4-2-3-1 consigliato da Robby Infine ci dice che per il tiki-taka sì perfetto È vero le fasce mancanti diciamo che come acquisti Io mi sa che oggi li chiuderò con alcuni 2-3 colpi Voglio fare ancora 2-3 colpi al centro campo ma devo un attimo vedere E poi sottolineo anche il fatto di fare gli allenamenti Perché sì hai perfettamente ragione Nella scorsa carriera non li ho mai fatti Ho notato una crescita un po' più lenta In questa magari off camera mi impegnerò Magari mi giocherò una partita per i cavoli miei Così che riesco anche a farli off camera Perché portano via un abuso di tempo E poi mamma mia orripilante fazzini Speriamo che almeno in campo renda meglio Hai perfettamente ragione Me lo auguro vivamente anch'io Detto questo Detto questo io direi subito di partire Con le tre trattative che ho in sospeso Che sono folli La prima è per questo Sinaioko Consigliato assolutamente da voi Ho detto di prenderlo Di metterlo come attaccante magari di riserva Visto che abbiamo tutti molto vecchi E in scadenza L'abbiamo pagato veramente una cifra irrisoria L'ho scambiato con un altro mio giocatore in scadenza Centrocampo vergognoso Dorgurega Io non so cosa gli hai preso Ce l'hanno regalato Aspetta fatemi vedere Non è neanche in scadenza Mi hanno offerto Hanno rifiutato il giocatore E hanno offerto 800.000 euro Ho detto boh Voi siete pazzi Preso subito E come è stessa cosa Mi sembra che anche qui l'ho scambiato con un altro giocatore Lui duttile Sia difensore centrale che terzino Ho detto non me lo voglio far scappare Quindi questi tre li andiamo subito a prendere Perfettissimo ragazzone Abbiamo chiuso tutti i colpi Che mi ero prefissato Adesso direi anche di Andarli a vedere un attimo Così da capire subito come muoverci Allora sicuro lui adesso finisce il listo trasferimento Uno dei due lo metto sulla destra Con anche lui a questo punto Mettiamo sulla lista trasferimenti Visto che è in scadenza Qua abbiamo a Pia Che direi di tenere per l'esperienza E tra Dorgue e Ecomie Direi che Dorgue secondo me E' più duttile E possiamo Cambiare il piano di crescita E spostarlo a destra Così da avere sia terzino Di sinistra che di destra Ci mette tanto però Il nostro Il nostro ragazzo Diventare un terzino di destra Vediamo se magari Il suo compare Ci mette un po' di meno Almeno ci salverebbe Un attimo la situazione Infatti lui ci mette due settimane Allora cambio di programma Ecomie a destra E Dorgue a sinistra Che rimane A giocarsela praticamente con Nils Nils che tra l'altro Regà ho scoperto Ci si era trasferito dal Sant'Etienne al Francoforte Da pochissimo Quest'estate forse Non ne avevo la più palida idea Perdonatemi Se come colpo Non vi è piaciuto Non lo sapevo E' un ritorno Ci ha ripensato E' tornato da noi Più felice che mai Non lo sapevo Faccio un mea colpa Se sotto il prossimo video Mi dite di venderlo O comunque di darlo via Perché non è realistico Assolutamente vi ascolto Qui ho sbagliato io A non informarmi prima E ammetto le mie colpe Cedendolo a malincuore Nel caso Andiamo infine a vedere L'altro nuovo arrivato Esterno Eccolo qua Che trasformiamo Attaccante Sperando Incrociando le dita Che il gioco Non ci faccia brutti scherzi E ce lo faccia trasformare subito Anche se ho paura AD ATT Perfetto 4 settimane Ottimo E direi che la squadra Prende forma Il budget Al momento Ce l'abbiamo ancora Abbastanza alto Secondo me Quello che Che ci serve Sono Dobbiamo riempire un po' La situazione al centrocampo Perché Siamo rimasti un po' corti E' vero E' vero Che va detto Che abbiamo Qua qualcuno Ovvero questo Qui Che potrebbe Diciamo Aiutarci Minimo Dobbiamo anche fare cassa Quello va detto Dobbiamo cedere Tutta sta gente Che spero di riuscire A piazzare in qualche modo Per Permetterci di Fatturare un minimo Perché Se no Stiamo belli Che stirati Mi viene da dire Avanziamo leggermente Alla prima partita Di questa Nuova Avventura Qua abbiamo L'altro attaccante Molto esotico Però lo sapevo che Il problema era il contratto Niang Non sappiamo ancora nulla E di lui Ancora Non sappiamo nulla Purtroppo Dorgo Perfetto Nuovo programma Qui sarebbe il caso Vabbè Questi li ho sistemati E qua abbiamo Sette Allora No Mi sto guardando Intorno Mi sto guardando Intorno Mi sto guardando Intorno Siamo d'accordo Siamo d'accordo E siamo d'accordo Perfetto Qua tutti quelli che ho sistemato In partenze E tutto E E niente E niente Siamo arrivati Alla prima partita Di questo Episodio Io Diciamo che le scelte Sono un po' Obbligate Su Sul mercato Adesso dobbiamo valutare Attentamente Gli altri Centrocampisti Di andare a prendere Guardiamoci un attimo Così ci penso Anche magari Nel bel mezzo Della partita Lui è in prestito Mangia le miserie Allora ci sarebbe Schallerberg Che però Costicchia Devo dire che Potrebbe essere Una trattativa Un po' onerosa Magari ci possiamo Piazzare qualcuno E vedere Mohamed Interessantissimo Penso che lui Possa arrivare Tranquillamente Alla nostra corte E l'altro è Sam Che mi piacerebbe Molto Molto prendere Ho individuato Anche questo ragazzino Qua sempre del Nizza Algerino Mi ricorda delle vibes Di Marez Spero Di Di prenderci Quindi non lo so Aspettiamo un attimo Anche lui E poi abbiamo anche Darami Che sarei curioso Di provare Ma lì abbiamo Sempre un po' I problemi dei contratti Aspettando anche Niang Che potrebbe essere Un aiuto Non indifferente Là davanti Ma prima di tutto questo Adesso È proprio l'ora Di cominciare Di cominciare Questo campionato Con il nostro Sant'Etienne Ed eccoci qua Tutto pronto Sant'Etienne Pau FC Vediamo un po' La situazione Di questo Pau Che spero Non ci metta Troppo in difficoltà Anche se Questo dritto per dritto Ci sta Veramente Un po' Preoccupando Occhio Subito al Pau Pericolosissimo Gol Ma Mamma ragazzi No Restless Miracolo Dopo 6 minuti Minchia Siamo anche in casa Vi prego Regà Non facciamo Figure Veramente terribili No Miracolo Di Restless Miracolo Di Restless Questo Subito Dobbiamo partire così Soffrendo Come sempre Mi viene da dire Gol Vabbè Doveva arrivare Doveva arrivare Il Pau Dopo 11 minuti Passa in vantaggio Con Muton E Regà Stanno giocando solo loro Noi non Che palle Non mi mancava per niente Giocare a FC In questo preciso momento Però 12 minuti Il Pau E avanti E' vero che noi abbiamo cambiato tantissimo Quindi dobbiamo Un attimo Capire il tutto Stile di gioco e cose Devo anche fare le tattiche Che non ho fatto Mannaggia me Quello è grave Perché Le tattiche mi salvano la vita Su questo gioco Dove Devo Devo Occhio qua Devo assolutamente Intervenire in qualche modo Magari Nella Nella pausa Prova a fare qualcosa Attenzione a Maino Che prova a destreggiarsi Ma niente Dobbiamo anche contare Che abbiamo tanti ragazzini Quindi non dobbiamo Avere troppe pretese Sin da subito Perché se no Ce li scoraggiamo E vabbè Però qua Ditelo Ditelo Che devono segnare Se no ce li scoraggiamo subito Stavo dicendo La cosa poi Non giova Nessuno Non è vero Ma quella era Palla piena Ma come fai Ok Comunque no Perché restess Si sta ancora superando 20 minuti di completa sofferenza E ancora calcio d'angolo Pau Non riusciamo a uscire Questa è la cosa Mamma mia Appia Prova Lui A suonare la carica Per Maino Il ragazzino di Manchester Prova a salire Maino Si destreggia Bene Maino Assan non sa che fare Assan Prende il pallone Assan Assan prova il tiro Abbiamo almeno tirato Non so se calcio d'angolo Se ci siamo centrati a vicenda No C'è Fazzini Dalla bandierina Cercare qualcuno Dentro Bayer di testa Prova a volare Attenzione che la palla rimane lì Non ci posso Assolutamente Credere A quello che ho appena visto Prende per puro caso Il difensore Avversario Che salva praticamente Un gol Già fatto Però Dai che ci Stiamo un attimo Credendo di più Assan In mezzo Alle linee Prova a destreggiarsi Per Maino Che Devo saltare con un tunnel L'avversario Ci riesce Ma Solo per un momento Bravo Fomba qua nel recupero Ancora Assan Può lanciare Il ragazzino tedesco Bayer Se la sposta bene Bayer Il tiro Camara Riesce a pararla Dai Bella azione questa Riproviamoci Ancora con Bayer Non ci posso credere Non ci posso credere Due volte Non ci posso credere Bayer stava già Per fare il gol Della Della carriera Secondo me Qua Non voglio neanche Commentare Non voglio neanche Commentare Il gol a porta vuota Sbagliato da Do Curé Non lo voglio neanche Commentare Non ci credo Se fosse fuori gioco Il Pau Invece si porta Sul 2-0 Convintissimo Che Che era fuori gioco Quel Quel tiro lì Cioè quel tiro Scusate Quel passaggio Qua ero convinto Del fuori gioco Mamma mia Mamma mia Che inizio ragazzi Che inizio Fomba Bello recupero Fazzini Prova a cercare appoggi Su Bayer Bayer Poco movimento Qua davanti Ora si muove bene Hassan Hassan Servito Hassan Prova le finte Hassan Palla che rimane lì E niente Non riusciamo Siamo riusciti Nel modo più brutto possibile Ci siamo riusciti Con Bayer Che trova il primo gol Il nostro numero 9 Non so se è stata deviata Forse sì Troviamo un gol Riaccendiamo una minima speranza Mi sto già casando Forse un po' troppo Devo Giusto placarmi Mettiamo Uno dei vostri giocatori consigliati Sperando possa risolverla Chissà Magari lui Prova a correre Sulla fascia Nils Salta Così un giocatore Salta anche l'altro Attenzione a Nils Nils Fino in fondo Nils Troppo troppo Hai avanzato forse un po' troppo Dovevi Stare un attimo più tranquillo Ma ci siamo ancora noi Con Maino La controlla bene C'è spazio per Hassan Che c'entra in pieno il difensore Ragazzi forse dopo il gol Abbiamo preso un po' di fiducia Ma come al solito Non voglio parlare troppo presto Dalla bandierina Fazzini Cercare Un'altra acrobazia Di Bayer Mamma mia no ragazzi Questo è fortissimo Questo è fortissimo Ve lo assicuro Fazzini Stavolta cerca Do Kure Non trovato Hassan L'appoggio è Non terribile di più E recupera Il Pau Non c'è più molto tempo Manca sempre meno Alla fine di questa Partita Dobbiamo Cominciare a spingerci in avanti Come in questa circostanza Con Appia Che si sovrappone Benissimo Viene però recuperato Da questo qui Che è un 100 metrista Appia 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 Devi passarla T'avevo detto due ore prima Di passarla Perché Ha saltato sto pallone La recuperiamo comunque In qualche modo Ancora con Appia Che la perde C'è Fomba Che però La mette in maniera Delicatissima Beyer Beyer Prova a passare lui La passa adesso Fazzini Che la allarga su Nils Che la rimette Malissimo dentro E mi sa che Ci siamo giocati così L'ultima opportunità Di pareggiare la partita È il primo match Di questo nuovo campionato Comincia con una sconfitta In un primo tempo Dove abbiamo fatto Completamente cagare In un secondo Dove ce la siamo giocata Abbiamo mangiato Veramente Delle occasioni Incredibili Nel complesso Va bene Forse Non lo so Un'altra cosa Che volevo integrare E Ve la spiego dopo La conferenza Perché sono un casino Che si sovrappone tutto Allora Vi stavo anticipando Prima Che una cosa Che volevo anche Integrare Che secondo me Potrebbe essere carina È quella di Alla fine Di tutto l'episodio Voi votate Tra virgolette Mi dite sotto nei commenti Chi vi ha convinto Di meno In campo Che l'avete visto Che ha fatto una cagata Come in questo caso Do Curé E magari Non lo so Se raggiunge Se vedo che un giocatore È tanto criticato Cos'è così Prima passiamo alla panchina Se vedo Una panchina Sai quella che ti rigenera Come fa spesso Allegri Se vogliamo prenderne una a caso E E poi Non lo so Se vediamo Cioè proprio Che voi siate più interattivi Che mi dite Guarda secondo me Mai non sta facendo cagare lì Spostalo più dietro Metti i fazzini di là Capito Quindi questi Movimenti Do Curé ha fatto sta cazzata Panchina per la prossima Perché si deve svegliare Comunque queste robe qui Che secondo me Possono essere carine Possono creare più Diciamo Interattività Tra Tra tutti E anche con la carriera Che Potrebbe Se non risultare Un po' statica Quindi fatemi sapere Tutto sotto nei commenti Attenzione che succede qualcosa Salutiamo Non so chi Ah Aiki Che se ne va lì Va bene Per 710 mila euro Va benissimo Tra l'altro Sto guardando la Ligue 2 E beh Il Pau Comunque è sesto Quindi non è che abbiamo perso proprio contro Una squadraccia Anche perché Non li conosco Quindi non volevo giusto fare figure Di merda Subito Allora Leganes Rifiuto Mentre lì Delego Anche per due anni E accetto Poi qua Assolutamente Sì Qua Assolutamente Sì E qua Assolutamente No Perché Prima sono il capitano Meno il capitano Teniamolo Ragazzi No Poverini Ed eccoci qua Nella seconda partita Per provare a riscattare Un inizio Non troppo bello Siamo qui contro il Paris FSI Che non è il Paris Saint Germain Ma comunque potrebbe crearci Le stesse difficoltà Di una squadra che nella realtà Si equivale Con quello che è ormai Il nostro povero Saint Etienne Noi dobbiamo provare oggi Con alcuni cambi Che ho fatto Oh mamma santa Ma in difesa Faccio un po' Cagare O faccio io Cagare a difendere Le cose Possono essere Tutte e due Messe sullo stesso piano Comunque ho messo Dorgu E con miei come terzini E sulle fasce Ho messo La Sin Sulla Sulla destra E poi Occhio però qua Devo stare un attimo Zitto Brianson Intervento incredibile Comunque la Sin sulla sinistra E sulla destra Non mi ricordo assolutamente chi Però adesso mi verrà in mente Qua sono un po' preoccupato Mi verrà in mente E quindi poi ve lo farò sapere Allora qua ci stanno Distruggendo Ma come giocano Come giocano Non si può vivere così Non si può vivere così Non si può Ho messo anche L'altro portiere Che se no si lamenta sempre Dopo 12 minuti Partita fotocopia Inizia come quella di prima Passiamo sotto A Anche qua Mamma mia Dov'è passato Sto pallone Però Incredibile Incredibile Il portiere è scandaloso Scandaloso Comunque voglio dire La Sin sulla Sulla destra E Nils L'ho spostato un po' più alto Sulla sinistra Perché Ho visto che può dare Un sacco di spinta E quindi voglio provarlo anche In questo ruolo Più da esterno Che da Difensore o terzino Ecco Miracolo 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 vero È proprio quello E proviamo A partire qua Con Sina Yoko Che teoricamente Dovrebbe correre abbastanza Sina Yoko Sina Yoko Però Non abbastanza Quanto Gaudin Che com'è Tiene palla Questo Paris È incredibile È un Tiki Daka Che teoricamente Quello che Dovremmo fare noi Devastante Mamma mia Ma Brian Son Oggi è impazzito Completamente Altro miracolo Qua Come La presa Lo sa solo lui Nils si addormenta Ancora Recupera però Il pallone Buttato giù D'Orgu Non fa cazzate Facciamo Facciamo fatica A costruire Il che Come al solito Vi ripeto Potrebbe essere Detato dal fatto Che la squadra È tutta nuova Devo un attimo Ricabribrare Anche molto Devuto dal fatto Che devo mettere Le tattiche Assolutamente Non mi sono ancora Dimenticato Dovete spararmi Un colpo in testa Per queste dimenticanze Fondamentali E E niente E niente È anche vero Che porca vacca Qua sembrano Tutti incredibili Cioè Il tic tac è nostro Ma Sembra che Lo utilizzano tutti Guarda qua Che palloni visionari Che mettono 2 a 0 Del Paris A minuto 45 Siamo qua Bayer Bayer Niente Nel secondo tempo Cominciamo sempre Un po' A giocare Un po' Di più Qua Prova a sfiorare Il gol Il 9 Tiro Però Impreciso Purtroppo Larga Su Sagnoco Che l'appoggia Maino Si passa da Bayer Nils chiede palla Bayer La mette in maniera Anche incredibile Nils Nils Può incrociare Nils Porca troia Nils Veramente Sotto nei commenti Mi aspetto Parole dure Nei miei confronti Su questo giocatore Che volevo troppo provare Ma al momento Ci sta regalando Veramente Tanti dispiaceri E pochissime gioie Dai mettiamola così Mamma mia Brianson Ancora lui Fazzini Provare Esports Mamma mia Fazzini Però Se sbagliare Tagliamo pure In fase di impostazione Finita Basiamo tutto Sul Tiki Taka E perdiamo poi Sti palloni E ci credo che Arriva il 3 a 0 Mamma mia Che disastro Questo inizio ragazzi Veramente Brividi 4 a 0 4 a 0 Porca troia Ragazzi Wow 4 a 0 Del Paris Bene Me l'aspettavo Difficile Ma così Mi sembra un po' Troppo E vabbè Passato ovunque Comunque Allora Se posso Se posso dire Anzi Lo dirò dopo Lo dirò dopo Prima lascio finire la partita Per dare Quelli che sono Le mie Impressioni A caldo E poi voglio sentire Voi sotto nei commenti Se siete d'accordo Anche perché Di fronte a un 4 a 0 Ci sono comunque Delle riflessioni da fare Delle riflessioni Un po' più pesanti Rispetto alla partita di prima Perché almeno Quella di prima Un minimo nel secondo tempo Visto del gioco Qua Non sto vedendo assolutamente Nulla In 90 minuti Di partita Se non qua Maino Maino Che prova A seminare il panico Però da solo Ci credo che non ce la fa Da solo Finisce qui Finisce qui 4 a 0 4 a 0 E E E' umiliante E' umiliante Possiamo dire Veramente tanto umiliante E' una partita Che Doveva essere Equilibrata Sulla carta Si è rivelata Disastrosa Allora Possibile cambio di ruolo Per Gianluca Valentini Regaggio a Luca Valentini Il velo qua Vi ha preso Una Un'osservazione Veramente interessante CoC Quel ragazzo Può ancora crescere Passaggi Ma sai che più che CoC Secondo me Te figlio mio Vediamo un po' Cosa puoi fare Cosa puoi fare A T A D A S E vabbè Mettiamoti Spostiamoti un po' così Perché secondo me Cresci anche Cresci anche Di più Da D o da S Modificare il programma Va bene Allora Ragazzoli Va fatto Un altro tipo di discorso Abbiamo riportato I 10 milioni Alla cassa Dobbiamo comunque Fare ancora degli acquisti Degli acquisti Importanti Secondo me D'Ucure Dalle prime partite Che ha giocato Ha giocato Veramente male Non voglio già Metterlo sul banco Degli imputati Ma comunque Un quarto difensore Va preso E secondo me Si potrebbe puntare Su qualcuno Che abbiamo in lista Dobbiamo poi puntare Sui centrocampisti Dobbiamo prenderne Degli altri Assolutamente Quindi direi Uno di andarlo A prendere subito Ovvero Quello Quel ragazzo Del Del lione Vediamo se riusciamo A portarlo Alla nostra corte E poi vabbè Devo Devo mettere Assolutamente A questo punto I Gli stili di gioco Qua c'è anche Niang Ditemi sotto Niang Se vi può piacere Piacere Soprattutto Si può piacere Soprattutto Il fatto che Il contratto è alto Quindi vorrei Sentire anche la vostra Prima di buttarmi In una trattativa Comunque complessa Però Qua adesso Voglio buttarmi In questa di Mohamed Perché secondo me Lui potrebbe Darci una Una grossa mano Con Delle belle statistiche Là davanti Per un Bouchero Che non sta molto Convincendo Diciamo Che potrebbe dire la sua Allora Sembrano non volere giocatori È solo Cash Ne proviamo a rimanere Più bassi possibile Loro scendono A un milione e mezzo Io vorrei rimanere Veramente basso Per lui Perché Soldi Noi È vero che Li abbiamo rifatti Però non è che Ne abbiamo Tantissimi Loro scendono A 1450 Secondo me Si può scendere ancora Arrivare a un 1250 Sarebbe Il top No Loro adesso Mi sa che si sono Incazzati di brutto Io provo 1300 Gli metto il 13 Avanzo Se no Rifiutiamo Ok Si è buggata Stanno andando solo a salire Quindi salutiamo tutti Ci abbracciamo Ci baciamo E addios E scappiamo Ci stava Voglio fare ancora una trattativa Per Schallenberg Sperando di riuscire A strapparlo Allo Schalke Perché secondo me Potrebbe essere Una Una vera Una vera 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 Aggiunta In più Per la nostra squadra La trattativa è comunque Complicata Perché Il giocatore costa Oggettivamente Quindi Dobbiamo stare Attenti Beh Ci hanno mandato direttamente A cagare Rega Sembra non Fattibile Neanche questa Quindi Vi voglio ancora sotto Nei commenti Con altri consigli Soprattutto per la difesa C'è questo Dragosin Che poi mi stuzzica Ma c'è sempre Il problema dei contratti Gli andrò A ritrattare assolutamente Mohamed Perché Diciamo che poi Si sono incazzati Una certa Quindi era diventata Ingestibile Come trattativa Direi di cominciare A seguire Sam Magari riusciamo A portarlo E consigliare Altri centrocampisti Rega Perché Diciamo che La situazione Sta diventando complessa Io adesso Sistemo le tattiche E Poi andiamo a giocare Contro Lamjens Lamjens Che Impronunciabili Questi comunque Queste squadre francesi E Speriamo Speriamo di Di ritrovarci Di ritrovare un qualcosa Un'identità Un Non lo so Non lo so Un gioco Un gioco che si era visto Nella prima partita Nel secondo tempo Che poi Però è completamente Completamente Sparito Stanno arrivando Tante sessioni E comunque Quindi stiamo mettendo da parte Un bel gruzzoletto E veramente Nei commenti Vi aspetto Con tantissimi consigli Perché Siamo partiti In maniera Terribile E vorrei un attimo Rialzare La situazione Sinceramente Per non Deprimere Anche i miei stessi giocatori Che giustamente Un po' di depressione Sale a tutte Visti Visti Risultati Ovviamente Il nostro osservatore Non ha trovato Assolutamente Nulla E Attenzione Vediamo ancora Cosa può succedere Salutiamo Un altro Incredibile Difensore Leopetro Tra l'altro Questa Una grandissima Trattativa Da parte nostra Secondo me Abbiamo venduto tantissimo Come anche Il nostro Ormai Non sapevo manco io Quanti portieri C'erano rimasti Di Potevamo Dicono Addirittura Prendere 3 milioni Non so veramente Certe volte Queste cifre Dove riescono a vederle Loro Se le sognano Secondo me Qua è la tua occasione La tua occasione E va bene così Ok Pensavo di avere più tempo Non ne ho più Per giocare Questa partita Contro La Mienz Che direi Che possiamo giocare Nel prossimo video Prossimo video Dove concludiamo Il mercato Con i vostri consigli A centrocampo Che mi servono Mi servono assolutamente Voglio anche sentire Un po' cosa ne pensate Di Niang Il centrocampo Va sistemato Sia Diciamo 3 acquisti Dobbiamo fare Secondo me A centrocampo Un cdc E Due coc Cc Ad Comunque qualcosa Di esotico Perché sia gnocco Lo voglio mettere punta Tra l'altro Fatemi sapere Su Niang Cosa fare Però Secondo me È difficile Poi voglio dare Tanto spazio A Bayer Che secondo me Diventa Un mostro Quindi anche sotto Nei commenti Ditemi la vostra Ditemi che è stato Il peggiore In questo episodio Così da valutare Diciamo L'idea Che mi era venuta In inizio video Io che dire Vi ringrazio Mi dispiace Per questi due risultati Pesanti Che però ci serviranno Sicuramente a crescere Dal vostro video E noi ci vediamo A un prossimo video